Oggi andiamo a fare dei semplici involtini di pollo con patate. Gli involtini di pollo sono più di un chilo e come vedete nella nostra friggitrice in ellis da 5.5 litri ci stanno tutti i nostri involtini, quindi andiamo a utilizzare questa friggitrice d'aria. Gli involtini li ho già comprati così dal mio macellaio, ma sono semplicemente del pezzo di pollo speziato, arrotolato, chiuso con lo spago, con un pezzettino di pancetta. Quindi li andiamo a cuocere così senza aggiungere niente, perché non ci va né olio né nulla. Alla fine della cottura ovviamente andiamo ad aggiungere il sale. Ora vi faccio vedere la mezza cottura che andiamo a fare con la nostra nellis. Basta inserire il cestello nella nostra friggitrice d'aria, come sempre, e andiamo a impostare la cottura. Io vado a impostare 190 i primi 8 minuti e poi clicchiamo semplicemente play. Trascorso il tempo andiamo a controllare, chiudiamo nuovamente la nostra friggitrice d'aria, ora andiamo ad aumentare i gradi a 200 gradi e aumentiamo il tempo per almeno altri 15 minuti. Dopo un paio di minuti andiamo ad aprire la nostra friggitrice con una pinza, stando attenti a non toccare l'antiderente oppure usate una con il silicone, andiamo a girare tutti i nostri involtini di pollo, così la cottura sarà omogenea da un po' i lati. Li girate tutti e poi continuate la cottura chiudendo il cassetto. Ogni tanto aprite e controllate. Come vedete ormai la metà cottura ci siamo, quindi riusciamo ad andare ancora a un pochino di minuti. Quando mancano 4 minuti alla fine dell'impostazione dei 15 a 200 gradi, così con gli 8 minuti di prima abbiamo cotto ben 19 minuti, andiamo ad aggiungere le patate. Io metto queste qua, patate a rosmarino grigliate con la sola aggiunta di rosmarino, non c'è olio, non sono prefrette e sono anche senza glutine. Le trovate alla Lidl. Le andiamo ad inserire sopra al nostro pollo, che sono a rosmarino, sono surgelate. Ci mettiamo giusto due puff di olio, perché sono ovviamente grigliate, non prefrette. Chiudiamo, diamo una scossa al nostro cestello, lo chiudiamo e continuiamo la cottura. Ovviamente i minuti rimasti sono pochi, li prolunghiamo fino a 10. Quando sono passati 5 minuti, ovviamente andate a controllare. Aprite la friggitrice, come vedete le patate sono già grigliate, sono già semicotte, continuiamo la cottura fino ad orazione a piacere. A 2 minuti dalla fine, quindi 8 minuti, sono pronte sia le patate che il nostro pollo. Ora andiamo a mettere tutto in un piatto da portata. Ecco qua il piatto finale di involtini di pollo con patate, quelle grigliate a spicchio. Ora non vi resta che aggiustare di sale e andare a servire questa pietanza. Ovviamente i tempi possono essere diversi in base alla friggitrice che utilizzate, se è a doppia resistenza o a cassetto, o quella fornetto ovviamente, e anche in base alla quantità di carne e patate che andate a inserire al suo interno. Detto questo, ci vediamo! Prossima ricetta!